Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo. Affoggi a bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30 gradi, la minima di 14. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-sud-ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest-sud-ovest. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata!